Buon pomeriggio a tutti, oggi un breve video di presentazione perché finalmente sono riuscita a configurare e a dare un nuovo look al mio blog. Era un progetto che avevo da un po' ma sia per mancanza di tempo sia per mancanza di conoscenze perché in fatto di informatica sono neanche alla base ma proprio a livelli rudimentali, lo avevo lasciato lì in disparte e finalmente ho avuto l'occasione di svilupparlo. Ieri ho condiviso una foto su Instagram e su Facebook e vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi perché in tante avete accettato il mio invito a lasciare anche un mi piace nella nuova pagina e mi avete lasciato dei messaggi molto incoraggianti anche su Messenger, quindi veramente un grazie di cuore per tutto il vostro appoggio. Ho voluto raccontarvi questa news anche qui su YouTube perché so che a qualcuna di voi piacciono le mie liste, i planning che sono appunto stampabili dal blog e quindi non si troveranno più all'indirizzo vecchio ma li potrete trovare nel nuovo indirizzo quindi www.sweetlivingcasa.com Poi i miei video sono molto amatoriali, vado a braccio, quindi a volte quando ho finito di fare l'editing, l'ho pubblicato oppure grazie ai vostri commenti mi rendo conto di aver tralasciato qualcosa che avrei voluto dire e invece magari scrivendo nel post correlato all'argomento ho più tempo, sapete, scrivendo c'è più tempo per riflettere e per riorganizzare le idee. Con il nuovo look volevo organizzare i post per categoria, quelli che riguardano la casa, l'organizzazione, la mia psicologia spicciola e tante altre cose i planning scaricabili, penso che l'interfaccia sia carina perché appunto ci sono le foto e poi sotto c'è il link per fare il download. Oggi è venerdì quindi approfitto per augurarvi un bellissimo weekend, qui la giornata è bellissima, spero che lo sia anche dalle vostre parti vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video, ciao!